Mamma, esco! Dove vai? Ad affiliarmi alla camorra! A che ora torni? Uff, a che palle, mamma, non lo so a che ora torno! Perché dobbiamo fare un sacco di cose! Prima dobbiamo bruciare il santino! Non adesso! Mettimi un'altra volta le mani addosso e ti apro con la lama! Poi dobbiamo tagliarci le mani per mischiarci il sangue io e Gigetto! E' schifo! Ma che cazzo vuoi che tu ti mangi le caccole? Sì, ma solo quando sono fatto di crack! Ma tu sei sempre fatto di crack! Ah già, me l'ero dimenticato perché sono troppo strafatto di crack! Poi però torni a casa, vero Nicolò? Mamma, uffa, che palle!